Musica Amici di Atisport24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla noto vista da vicino Abbiamo il grande piacere di avere in nostra compagnia Per parlare del circolo Canottieri Napoli Blasonata formazione partenopea Che milita nel girone sud del campionato di Serie 2 L'attaccante Luca Orlando Ciao Luca, benvenuto Grazie di aver accettato il nostro invito Grazie a te, buonasera Luca, partiamo da quella che è l'ultima uscita ufficiale Scontro diretto in casa della capolista La schiacciasassi del vostro campionato Ci può stare la sconfitta La Canottieri perde 11-7 a Monte Rotondo Ti chiedo Quale eredità abbia lasciato il K.O. contro i Capitolini Considerando che è un match che Per più di due tempi è stato in perfetto equilibrio E che ha avuto la sua svolta Quando nella seconda parte del terzo parziale I Capitolini sono scappati sul 7-4 Allora Andrea, guarda È stata una partita, come hai detto tu Abbastanza equilibrata Soprattutto per i primi due tempi È stata una bellissima partita Ci sono state tante costruzioni di gioco Sia da una parte che dall'altra La differenza che c'è stata tra noi e loro Che poi si è vista anche nei parziali È stata la freddezza sottoporta Molto in maniera banale Perché andando a rianalizzare la partita Cosa che abbiamo già fatto Tutti quanti insieme in squadra Abbiamo evidenziato più volte Che il nostro errore più grande È stato proprio la mancata freddezza sottoporta Che non mettere la palla dentro la porta Comunque ci portava a rimanere indietro con il puntaggio Certo E tu parli di mancata freddezza sottoporta Sono un po' cattivo in questo caso Però me lo impone il mio ruolo Quanto incide sulla vostra prestazione Il brutto 2 su 12 messo a referto Con l'uomo in più Oppure Ti provoco ulteriormente È stato l'attacco a uomini pari Che vi ha danneggiato Perché se vado al tabellino Brutta percentuale per voi Brutta per loro Però forse Loro sono stati piccinici Ad uomini pari Esattamente In maniera molto strana Rispetto alle partite Ormai standard Della palla nuoto di oggi Che si giocano fondamentalmente Sull'uomo in più Uomo in meno La partita che abbiamo giocato noi sabato È stata giocata principalmente Sull'uomo in più pari Proprio dato per Questi brutti numeri Queste brutte percentuali Fatte sia da noi che da loro In superiorità numerica Purtroppo Noi abbiamo peccato Sbagliando un rigore E prendendo anche alcuni gol dal centro Che come ben sappiamo Tutti quanti pesano molto Sul punteggio E andando a rianalizzare la partita Abbiamo evidenziato Che ci sono alcuni problemi Da dover risolvere Il K.O. di Monterotondo E la contemporanea vittoria esterna Della Rarinantes Florenzi A Palermo Con la Waterpolo Dilatano a 5 Le lunghezze di vantaggio Dei Toscani Nei vostri confronti Anche se È doveroso Precisare che Sabato prossimo La formazione allenata Da Minetti Riceverà La Nannini Proprio la capolista E io Non credo a una visnova Che nonostante la certezza Matematica Del primo posto Diminuisca la sua fame Nelle ultime due partite Anche perché I ragazzi di Calcaterra Vogliono chiudere Con tutte vittorie Alla luce di questa premessa Ti chiedo Credete ancora Nelle residue Possibilità Di aguantare Il secondo posto Oppure la vostra concentrazione È già orientata Su ciò che succederà Poi dopo Allora noi Principalmente Non te lo nascondo Ci stiamo concentrando Ormai Per Per i playoff Per la possibilità Di prendere La seconda Del Giro Nei Nord Quindi Se ci potrà essere Mai l'eventualità Di diventare secondi Per Qualsiasi motivo X Ben venga Però Noi per ora Rimaniamo nel nostro Ci concentriamo Giorno per giorno In ogni Allenamento In ogni partita E andremo a sfruttare Queste ultime due partite Come test match Proprio per andare A costruire qualcosa Di ancor migliore Per la fase Dei playoff Parliamo proprio Di playoff Lo hai accennato tu A meno di Improvvisi Capovolgimenti Di fronte Sul filo di lana Terminerete terzi Vi aspetta La semifinale Playoff Al meglio Delle tre gare Con Prima e terza In trasferta Contro la reale mutua Torino 81 Ti chiedo Alla luce di questo Confronto Contro una squadra Che è allestita Per il salto di categoria Quale step di crescita Dovete compiere Per giocarvi al meglio Le vostre possibilità Sicuramente Siamo una squadra Molto giovane Con alcuni Nesti Di grande esperienza Secondo me Secondo me Il nostro punto Il nostro punto Carente Che dobbiamo andare A costruire È la costruzione Del gioco Da portare Palla Dalla conclusione Dell'azione Avversaria Portare La palla Fino ai due metri E iniziare La costruzione Dell'attacco Con Entrate E scheme Penso che Se Riusciamo A provare E a Concentrarci Su quelli Che sono Gli errori Che solitamente Commettiamo Sia in partita Che in allenamento Penso che Ci aspetterà Il grande futuro Anche in questi playoff Prima dei playoff Però Lo hai accennato tu Ci sono le ultime due partite Di stagione regolare Da giocare al massimo Anche per non lasciare Nulla di intentato Perché se la Florencia Sarà brava Ci saranno applausi Ma se dovesse Comprere un eventuale Passo falso Voi sarete lì pronti Ad approfittarne E sabato Arriva Alla standone La Lazio Noto Formazione Che all'andata Vado a memoria Correggimi tu Se sbaglio Vi ha imposto il pareggio Partita Ci aspettiamo? Ci aspettiamo Sicuramente Una partita Molto combattuta Noi siamo Molto affamati E Vogliamo Sicuramente Mettere in chiaro Che se ci fosse La possibilità Di arrivare ancora Secondi Noi siamo Qui pronti Per ottenere Quel posto Ma sicuramente Siamo ancora molto Siamo affamati Per quello che Per il playoff Che verranno E vogliamo Dare il massimo Per poter Per poterci mettere Alla prova Perché sappiamo Di poter costruire Ancora molto Chiudiamo La nostra Chiacchierata Con un'ultima Battuta Secondo te Dove si potrà Decidere Il match Contro i capitolini Formazione Che come voi Annovera Tantissimi giovani In organico Anche di più Forse rispetto a voi Però ha anche Degli elementi Di assoluta esperienza E dei lusti Per la categoria Le porale Vittorioso E via discorrente Sicuramente Un'ottima formazione Di grande esperienza La loro Io penso che Noi siamo Molto uniti Come squadra E penso che Se ognuno di noi Riesce a dare Il massimo Di sé Non Non ci sarà Dobbio Nel risultato Va bene Siamo così Al termine Della nostra Chiacchierata Ringrazio Luca Orlando Per averci fatto Compagnia E do appuramento Ai nostri spettatori Per la prossima puntata Ciao Luca Alla prossima Ciao Andrea Grazie mille Buonasera